Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex e come sempre invito i miei video su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche la mia guboteca per stare sempre aggiornati. Tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre di attivare la campanellina per non perdervi ogni mio video. Oggi andrò a fare la prima impressione di No of the Sea, editor Star Comics, prezzo 6,90€. Vi ricordo che il volume conclusivo uscirà in limited con al suo interno il box vuoto per contenere tutti e cinque i volumi. C'è anche questa possibilità nel caso di un raccoglitore per tenerli tutti e cinque. Ora, non ci viene molto a dire a meno di questo primo volume, Akari, una ragazza che insieme ai suoi genitori e al suo fratellino vince, o meglio, ha dei biglietti per una nave in crociera e poi appunto partono per la crociera. Sembra tutto bello, tutto carino, incontra un ragazzo kakeru che ci prova, fa il cascamorto, suo coetaneo, però c'è un però su questa nave, ci sono delle sparizioni, anche se anche la stessa Akari è vittima e c'è un nome ricorrente legato a una bambina che appunto si chiama Noah, ma c'è qualcosa di davvero oscuro, cioè vediamo che viene mostrato che ci sono dei vampiri su questa nave che, ovviamente, hanno ideato tutta la crociera per prendere le vittime, oltre che bebede sangue, ovviamente ci sarà anche uno scopo dietro perché sembra che questa bambina sia idolatrata, sia vista come una divinità da tutti gli altri vampiri, anche se sono più grandi. Quindi ci sono scene macrabe, macrabe all'interno di questo primo volume, non capisco dove voglia andare a parare, se è una semplice storia dell'orrore, modello scopri che è l'assassino, sicuramente mi ha lasciato parecchio deluso, devo dire col più volume, da parecchio, quindi io spero davvero che ci sia un upgrade nel prossimo, perché, ripeto, non mi ha convinto così tanto, ecco, sembra un classico manga horror su vampiri, scontri per ora non ce ne sono ancora stati, non ce ne sono, la stessa protagonista, non capisco se lei è la protagonista perché scompare quasi subito, suo padre, anche lui, sparisce, il fratellino quasi neonato, sembra che sia sotto qualche effetto strano di incanti, di incanto, e questo Kakeru, anche lui, non capisco se sarà l'eroe che salverà tutti, o sarà uno dei tanti. Non riesco bene a inquadrare questo manga, cioè questo volume, perché è comunque la prima impressione, ci sono delle scene, delle tavole che meritano, ma dirvi di comprare un manga solo per qualche tavola, non sarebbe neanche giusto da parte mia. Devo dire, mi aspettavo molto di più, e soprattutto non riesco a capire chi sia l'effettivo protagonista, perché anche i vampiri, a parte Noa, non hanno nomi gli altri, a parte questi tre, gli altri, non si sa né i nomi né niente, sono sempre tutte comparse, e quindi i protagonisti neanche, riesco bene, definirli, delinearli il carattere che hanno, secondo me è una rossa pecca, cioè non mi ha dato niente i personaggi, sono personaggi poveri, anche se non parla mai, forse è quella che ha più carattere, più carisma. Questa bambina ha più carisma di tutti gli altri che parlano, lei sta zitta, si è vista in poche scene, ma ti dà molto più carisma lei di tutti gli altri. E quindi è una pecca davvero enorme, perché non ti lascia niente, non ti lascia un ricordo di un personaggio in particolare a parte Noa, che ripeto, non dice nulla e si vede in qualche scena e basta. Boh, quindi, vedete voi, ecco, sinceramente, io speravo meglio, però certo, so che magari c'è gente che piace ai vampiri, va di matto per storie vampiri con i mari. Prende pure questa, ecco, però a me non mi ha entusiasmato. E niente, io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like, attivate la campanella e condividete i miei video per aiutarmi, perché davvero ci tengo molto. Noi ci vediamo ai prossimi video. Noi ci vediamo ai prossimi video.